Pronto Raffaterno? Per favore mandatemi qualcuno. Grazie Raffaele, lei è stato molto preciso e professionale. Grazie a lei passeremo una fresca estate senza consumare troppo visti i prodotti a risparmio energetico che c'è installato. Giovedì il prefetto di Salerno Francesco Esposito ha tenuto una riunione del Centro Territoriale per l'Immigrazione al fine di effettuare una ricognizione dei fabbisogni della provincia in materia di accoglienza e integrazione dei migranti e del tessuto sociale di riferimento. L'obiettivo è redigere il piano territoriale di interventi per la gestione del fenomeno migratorio in provincia di Salerno utile a fotografare le esigenze del territorio in termini di domanda e offerta di lavoro, servizi e infrastrutture disponibili all'accoglienza, nel contempo offrendo suggerimenti, osservazioni e proposte utili a rispondere alle esigenze rappresentate e a governare la migrazione di cittadini stranieri non più solo con strumenti di carattere transitorio ed emergenziale, ma anche con un'organizzazione strutturata in grado progressivamente di mettere in rete istituzioni pubbliche e private per favorire integrazione e inclusione sociale ed economica nella prospettiva di un equilibrato sviluppo del territorio. Il lavoro in questione impegnerà anche l'Istituto Psicoanalitico di Ricerche Sociali, il Censis e Deluat, il che costituirà la base per presentare nuove progettualità che consentano di accedere ai fondi ministeriali Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione. Hanno preso parte alla riunione il Comune di Salerno, rappresentato dall'assessore Paola De Roberto, i referenti dei Comuni Capofila degli ambiti di Nocera Inferiore, Scafati, Pagani, Cava dei Tirreni, Eboli, Palomonte, Battipaglia, Ponte Cagnano-Faiano, Baronissi, Rocca d'Aspide, Vallo della Lucania, il direttore generale dell'ASAL di Salerno, il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, il referente dell'Università di Salerno, quello dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, i referenti delle organizzazioni sindacali, della Croce Rossa, della Caritas e gli enti del terzo settore. Il prefetto Esposito, al termine dell'incontro, ha dichiarato che stiamo portando avanti il piano territoriale per migliorare sempre più le capacità di governo del fenomeno migratorio. Sarà una base conoscitiva importante per poi avviare progetti da finanziare con fondi messi a disposizione dal Ministero dell'Interno in un quadro di interventi coordinati e integrati per favorire il potenziamento della governance e contribuire a dare risposta sul versante dell'accoglienza, della tutela della salute e della rilevazione delle vulnerabilità del lavoro, della casa, della scuola, della formazione e dell'informazione.